ciao meccanico ciao ciao cosa è successo qua vedo un tornio nuovo un tornietto nuovo sì 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 ho sostituito quello che mi ha fedelmente accompagnato nei miei undici anni di modellismo vari pezzetti che non andava male vero no non andava anzi sembra incodrato e sotto là pronto per essere venduto e questo qua è il tornietto che avevo prima di questo sembra uguale ma uguale non è ho capito questo qua è proxon questo vecchio quello nuovo è proxon anche questo con puoi vedere una sicurezza più performante ma guarda qua c'è tutta la tabella delle velocità non riesco a metterla fuori ecco così ti aiuta poi ti posso anche far vedere che qua dentro qua dietro accendiamo un po di luce qui guarda ecco qua dietro è predisposto per questa famone i vecchi tornitori la conosceranno la testa di cavallo dove sostituendo le ruote dentate posso fare i filetti puoi fare i filetti perché con quell'altro non potevi filettare si anche con quell'altro certo come puoi vedere è un po più massiccio c'è anche la vaschetta per raccogliere i truccioli la vaschetta per raccogliere i truccioli le guide prismatiche sono più larghe tutte le guide sono tutte le viti sono protette vedi che non c'è una guida che non è protetta dal carter di modo che i truccioli non entrano sui filetti e non danno fastidio ottimo hai capito le però non c'è il liquido refrigerante no no la vaschetta con l'aduzione liquido refrigerante non esiste in questi tornetti non c'è non è non è che non è contemporaneo questo qua il motore si è molto più potente che voi ti faccia sentire come gira questo ha dei bei arriva fino a 3000 giri ho capito ecco torrette porto utensili regolabili in altezza con inserti invidia gli utensili portano insieme 10x10 porta questa torretta si può girare vedo si per tornare i gradi per tornare con i gradi per fare la contropunta contropunta girevole che ci puoi mettere anche una punta da trapano un mandrino c'è un mandrino vedi dove tu puoi chiudere poi dove tu puoi chiudere ecco le punte per fare dei fori ho capito ok allora grazie meccanico di averci fatto vedere il tuo nuovo gioiello si questo è proprio un bello 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 mi piaceva mi è piaciuto adesso tolgo la torretta porta utensili perché non deve restare niente in pressione quando non lavora va bene grazie meccanico ciao ciao carissimo ciao ciao